buongiorno dalle tg1 in vista del nuovo dpcm per le festività oggi alle camere l'informativa del ministro della salute speranza a natale massima serietà avverte dobbiamo disincentivare gli spostamenti tra regioni e limitare anche quelli tra comuni il 25 26 dicembre e a capodanno illustrato anche il piano vaccini anti covid prime dosi da gennaio saranno gratis per tutti gli italiani e uno sforzo senza precedenti che richiede un grande impegno collettivo alessandro gamberi poi felicità pistilli gli indici migliorano la divisione in zone funziona al senato il ministro speranza illustra il nuovo dpcm rivendica il modello ci ha permesso di affrontare la seconda ondata senza lockdown generalizzato l'indice rt potrebbe tornare a breve sotto l'uno ma avverte non è il momento di abbassare la guardia o la terza ondata dietro l'angolo vanno limitati gli spostamenti tra le regioni così come già oggi avviene in presenza di zone rosse e arancioni e nei più importanti giorni di festa il 25 il 26 il primo gennaio vanno limitati anche gli spostamenti tra i comuni l'obiettivo è riportare il sistema sanitario sotto il livello di guardia non saturarlo in modo che da gennaio possa gestire l'arrivo dei vaccini speranza illustra il piano parla di sforzo senza precedenti l'acquisto del vaccino è centralizzato e verrà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani il vaccino è un bene comune un diritto che va assicurato a tutte le persone non sarà obbligatorio almeno nella prima fase poi il governo valuterà in base alle adesioni servono ulteriori sacrifici prosegue speranza ma per la prima volta c'è un orizzonte temporale finalmente si vede la luce si inizierà dalle persone più esposte a rischio dunque le opere grazie a tutti grazie a tutti